A pochi giorni dalla prima festa nazionale in programma a Manduria dall'8 al 10 ottobre nasce a Taranto la nuova sede provinciale di AEPI, la Confederazione delle Associazioni Europee di Professionisti ed Imprese. Siamo sicuri di poter dare un contributo importante insieme a tutte le altre realtà presenti sul territorio per cercare di contribuire anche noi a fare rete nella rete, ad utilizzare politiche smart di condivisione degli interessi comuni, di tutti i vari settori, professionali, commerciali, dei servizi, del terziario e di ogni altro settore che possa essere utile per il nostro territorio. Siamo una realtà smart, è un'associazione smart, un'associazione innovativa, sia sotto il profilo menageriale che sotto il profilo della condivisione. Crediamo di fare bene, speriamo di fare bene, ci tengo a precisare che il nostro obiettivo è quello di collaborare con tutti per il bene del nostro territorio e per contribuire affinché lo stesso migliori le proprie condizioni sia territoriali che regionali e anche nazionali. Sono particolarmente orgoglioso di questa apertura della sede provinciale di Taranto in questo particolare momento storico, vista anche le visioni future relativamente ai processi di internazionalizzazione del nostro Made in Italy, per cui forti di questa opportunità che il territorio offre e forti anche delle competenze che AEPI ha messo in campo in questa tornata e ma in forte crescita, siamo al passo e siamo al fianco delle istituzioni per raggiungere obiettivi sempre più alti. Ci troviamo a un ritorno verso l'agricoltura, verso il primario, verso la valorizzazione delle risorse naturali, l'ambiente e quindi la salute nel suo complesso. Un'economia sana, sostenibile, che premia finalmente le popolazioni di Taranto e noi come AEPI abbiamo deciso che Taranto potrebbe essere la prima città dove insediare i nostri uffici, i nostri servizi, raccogliere le categorie. Oggi abbiamo anche i pescatori che sono l'eccellenza direi di Taranto per la vetrina che possono offrire anche nel settore della pesca con la pelosa di Taranto su cui lavoreremo da subito perché vogliamo un marchio, vogliamo un disciplinare, vogliamo la protezione di questa eccellenza e vogliamo che diventi un simbolo di qualità, di sicurezza alimentare e di ritorno a un'economia sostenibile.